A sorpreso tre persone che all'interno del suo garage stavano praticando un foro per accedere agli adiacente ufficio postale è accaduto in via Nuova San Rocco a Napoli ieri sera intorno alle 21 un residente della zona che ha aperto il box e ha trovato all'interno tre uomini che stavano effettuando un foro alla parete. I tre quando lo hanno visto hanno scambiato anche qualche parola con l'uomo come se nulla fosse per poi pian piano andare via. Il proprietario del garage rimasto senza parole ha cercato di capire cosa stesse accadendo. Su una parete del box c'era un pannello e una volta tolto la scoperta un bel foro della dimensione di 50x50 cm. Accanto al box l'ufficio postale agenzia numero 23 sul posto sono stati rinvenuti attrezzi da scasso indagini in corso da parte dei carabinieri di Napoli Marianella.